PENSIERI DI CARTA Violet Keppel nasce a Londra nel 1894. È la figlia dell'elegante e bellissima Alice Keppel, la favorita di Reduardo VII. Violet ha un'intelligenza vivida e una scrittura spumeggiante. Attenta a studiare le persone ha un irresistibile potere descrittivo, intelligente, ironico. Vita Sackville-West nasce a Newcastle nel 1892. È una scrittrice di fama internazionale, aristocratica, ambiziosa. Due donne, due scrittrici, due amiche. Il giorno che cambiò per sempre la loro esistenza fu la sera del 18 aprile del 1918, dopo cena nel salotto di Long Barno nel Kent. Violet era sdraiata sul divano, Vita sedeva in poltrona. Parlarono per ore, Vita le rivelò la sua doppia natura, gentile con Harold, suo marito, e appassionata con le donne. Violet la ascoltava con attenzione, le disse che l'aveva sempre amata. Poi dolcemente le prese le mani e, dischiudendo le dita, ne numerò su di esse le ragioni. Violet era bellissima, indossava un vestito di velluto rosso che con il bianco madreperla del volto e il fulvo dei capelli faceva di lei la quintessenza della femminilità. Violet trasse a sé Vita, si baciarono. Poi si alzò per lasciarla e andare in camera, ma Vita la baciò ancora nel buio dopo aver spento la luce e acceso i riflettori su una storia d'amore unica e sensazionale. —Grazie per la tua lettera, la aspettavo da tempo. Tre giorni, un'eternità. Mi domando se devo rispondere alla tua domanda. Una domanda molto indiscreta, tra l'altro, che merita un sonoro rimprovero. Rispondo, non rispondo, rispondo. Al diavolo la discrezione. Ti amo, Vita, perché ho dovuto lottare tantissimo per te. Ti amo perché non ti arrenderai mai. Amo in te ciò che possiedo anch'io, l'immaginazione, il talento per le lingue, il buon gusto, l'intuito e un mucchio di altre cose. Ti amo, Vita, perché ho visto la tua anima. La storia d'amore e di passione fra Violet e Vita fu contrassegnata anche da lettere infinite, appassionate, come quella che abbiamo appena ascoltato. Lettere rimaste inedite fino alla morte di Violet e che furono scoperte in modo curioso. Ce lo facciamo raccontare da Tiziana Masucci che ha curato la raccolta di lettere intitolata Anime Gitane, pubblicata da Archinto. Allora, come furono trovate queste lettere? Allora, sì, effettivamente la scoperta del carteggio di Violet Refuses a Vita Sackwil West ha molto di curioso, in quanto Vita scrive una sorta di memoriale nel 1920 in cui racconta della sua passione travolgente per Violet e acclude a questo memoriale tutte le lettere ricevute da Violet dal 1904 fino al 1921, quindi parliamo di più di 500 lettere. Premetto che Violet le aveva chiesto di bruciare tutte le lettere, invece Vita fortunatamente le conserva. Vita muore nel 1962, il figlio Nigel trova nascosto dietro un armadio una borsa Gladstone, fa un taglio a questa borsa e scopre questo ammanco di lettere. Siamo nel 1972, quindi Violet era ancora viva. Allora Nicholson che fa? Aspetta la morte della Trefusis e nel 1973 dà alle stampe le lettere. Beh, a questo punto ascoltiamo un altro passo di questa appassionata corrispondenza. Monaco di Baviera, Pasqua 1911. Vorrei strapparti dalla tua Italia, mollarti due sonori ceffoni e portarti con me, in un viaggio di piacere, lontana da tutto ciò che ti narcotizza lo spirito che dalle tue ultime lettere mi pare che sia già mezzo addormentato. Dio mio, Dio mio, come posso liberarti da questa calma olimpica che contrasta così tremendamente con i miei ricordi purpurei e scarlatti. Andremo in Spagna. Tu, mia allieva, io, tuo Cicerone. Ti mostrerò occhi di velluto nero che si scambiano proposte indecenti. La sevillana, il fandango, corpi ondeggianti, nacchere schioccanti, le gazze che svolazzano tra gli olivi, la pianura triste, la mantiglia che fluttua, il ventaglio di spiegato. Seguimi, seguimi. Ti costringerò a vedere l'abile mano che uccide, il sangue versato di nascosto, la vendetta, quella senza pietà che ignora la parola perdono, quella che aspetta di infliggere il colpo fatale. Ti mostrerò la femmina folle, Vita, quella pazza d'amore che schiocca le dita per richiamare il suo amante sdentrato davanti ai suoi occhi la domenica precedente nell'arena. Tiziana Masucci, ci fu tra loro una personalità dominante e questa lettera è Violet che sembra scuotere Vita. Sicuramente un altro aspetto di Vita rispetto a Violet è una sorta di debolezza e anche di superficialità o forse semplicemente un freddo calcolo. Lei era sposata, aveva quindi un marito e due figli, anche se il suo matrimonio in realtà le serve da paravento sia a lei che al marito perché a Vita notorialmente amava le donne, più che amare a Vita piacevano le donne perché aveva una componente maschile molto forte, quindi molto fisica. Di rimando a Harold invece piacevano gli uomini, infatti era più femminio, più delicato, quindi il loro matrimonio appariva e appare come un legame indistruttibile. Invece quando subentra Violet nel rapporto, Nicholson per la prima volta ha paura. Perché? Perché si rende conto che Violet non è il solito capriccio della moglie, ma è realmente il vero amore di Vita. Cloverley, 25 agosto 1918 I miei giorni si consumano nel desiderio di te e le mie notti si spiegano in sogni insopportabili. Ti voglio. Ti voglio avidamente, freneticamente, appassionatamente. Ti desidero vivamente. Devi saperlo. Non solo fisicamente, ma la tua presenza, la tua complicità, gli innumerabili punti di vista che condividiamo. Non riesco a esistere senza di te. Sei la mia affinità, il pandan intellettuale, la mia anima gemella. Non posso farci nulla. E neanche tu. Qualcosa può spezzarsi nel mio cervello, se aspettiamo ancora, e dirò a tutti che so che ce ne andremo e perché. Pensi che sprecherò la mia preziosa giovinezza aspettando che tiri fuori il coraggio sufficiente per scappare? Eh no. Ti voglio per me sola. Voglio andare via con te. Devo, voglio e maledico il mondo e maledico chi se ne infischia delle conseguenze e chiunque osi diventare un ostacolo sul mio cammino. Violet è la quintessenza della femminilità, corteggiatissima, brillante, fantasiosa. Gli uomini le cadono ai piedi, ma l'unica che è riuscita a conquistarla è vita mascolina, imponente, inaffidabile. Violet è inquieta, ansiosa. Lo abbiamo sentito anche in questa lettera. Sì, più è dilaniata dalle difficoltà e dagli ostacoli e anche dall'instabilità di vita e più sente di amarla. Vita diventa il suo ideale di avventura proprio perché ha una componente maschile predominante mentre Violet ne è più gelosa, è sicuramente più gelosa. E di gelosia è proprio Violet a parlarne. Happily Hall, Ride, Isola di White, 23 settembre 1918. Che cosa è il bene, Mizia? Ho ricavato dall'amore più infelicità che felicità. La gelosia, subito onnipotente, è alla radice della mia sofferenza. È una malattia e ucciderà il nostro amore come un cancro porta sicuramente la sua vittima alla fine. Ha sempre qualcosa di cui alimentarsi. L'unico momento in cui la dimentico è quando sto con te, quando sono lontana, regna sovrana, mentre tu hai affetti molto profondi. Il patto è unilaterale. Tu sei tutto per me e io sono l'interesse dominante di altri interessi. Lo so che mi ami, ma non come io amo te. Se io ti vengo meno, tu hai molte altre persone su cui ripiegare. Se tu mi vieni meno, che cosa mi rimane? Alcol, morfina, prostituzione e poi sono divertente. Non mi sento tale. Sto diventando terribilmente Anna Carienina. Perché Violet si rivolge a Vita chiamandola Mitzia? Perché usano molto dei nomignoli, dei nomignoli affettuosi. Mitzia è Vita, Lusca è Violet. È un modo per essere proprio due contro il mondo, quindi per sottolineare questo rapporto esclusivo. Violet scopre un dizionario inglese zincali e da lì decide, coinvolge Vita proponendole di usare proprio questi termini zingareschi come linguaggio segreto perché poi sostanzialmente, ed ecco perché si intitola anche anime gitane la raccolta di lettere, Violet si sentiva una zingara, ma zingara gypsy nel senso di libertà, libera appunto da vincoli, da convenzioni, molto idealista sostanzialmente. Avevano anche un linguaggio segreto. Sì, c'è un verbo tipico proprio della loro storia, cia pescar, che significa scappare. O anche per dirsi ti amo si scrivevano te camelotuti, ma ce ne sono tantissimi e fanno molta tenerezza perché magari nell'ambito di una lettera molto esplicita per non dire ti amo c'era questo te camelotuti, quindi molto, molto tenero. 21 marzo 1919 anima e corpo. Amore, quella notte abbiamo dormito abbracciate. Sento che stiamo sbagliando nel tentare di nasconderlo. Perché Vita lascia che Violet si sposi, pur essendone innamorata follemente, al punto che il giorno dopo il matrimonio la va a prendere a Ritz di Parigi per portarla con sé nel suo hotel? Perché Vita è una vittoriana e allora capisce che se Violet si sposa per loro il loro rapporto può tranquillamente proseguire senza che tutta High Society di Londra chiacchieri. In realtà se inizialmente Vita accondiscende a questa imposizione, che poi è un'imposizione voluta da Alice Keppel che costringe Violet a sposare La madre. Sì, a sposare Dennis Trefusis. Tra l'altro Trefusis era innamoratissimo di Violet. Subito dopo si pente. Si pente perché ecco, le viene fuori questa possessività. E il giorno dopo il matrimonio li aspetta al Ritz. Lei prenota in una pensioncina. Prende Violet dal Ritz. La rapisce quasi. Sì, la rapisce. È proprio un vero e proprio rapimento. E la porta in questo albergo e la fa sua ripetutamente. Perché in questo modo deve essere lei la prima. e quindi è una questione di possesso, di carnalità. E in questo modo, anche se Violet ha promesso che non sarà mai, non andrà mai a letto con Dennis, vita vuole la riprova. 1919. Finti lì che ho parlato di Parigi per tutto il pomeriggio. Parigi, quando arrivamo per la prima volta. La mia mente freme al ricordo. La notte in cui andamo al Palais Royale, quella in cui andamo alla Femme e le Pantaine, sono state le più felici della mia vita. Ero semplicemente ubriaca di gioia. Eravamo bohemian, con solo quanto basta per pagare la nostra cena. Dio mio, ero felice. Pensavo che non sarebbe mai finita. Ero follemente, insaziabilmente innamorata di te. Mizia, Mizia, come ti adoravo. La nostra vita, la nostra vita d'artiste, non può essere finita. Non può. Sono i migliori anni della tua vita, questi. Presto avrai trent'anni. Giovanile, ma non più giovane. Poi trentotto, quaranta, la mezza età. Cosa avrai da mostrare della tua passata giovinezza? La bellezza che appassisce non più esuberante, magnetica, ma dura, austera e senza espressione? Tu, che avresti potuto essere, che tuttora potresti essere una delle più grandi figure del nostro secolo? Una George Sand, una Caterina di Russia, un'Elena di Troia, Saffo. Ascolta la mia voce, Mizia. Per una volta non penso solo a noi. Tutte le sublimi e magnifiche figure della storia ti tendono le mani. Ecco, un rapporto di amore, ma anche di arte. Sì, Violet aveva un'intelligenza viva, era molto vivace intellettualmente, leggeva tantissimo, parlava quattro lingue perfettamente. Aveva capito che il punto debole di vita era proprio il suo voler diventare una grande scrittrice e quindi, pur essendo superiore come scrittura a vita, pur di non offenderla in un certo qual senso, l'adulava e quindi, quando hanno scritto insieme Challenge, è Violet che scrive il libro, però poi lo firmerà a vita. 20 luglio 1919, la prima volta che siamo andate a Polperro. Oh, Mizzia, come eravamo felici, come eravamo esultanti, quella piccola camera di Hugh Walpole con il mare che quasi ne lambiva le mura, l'incessante strida dei gabbiani, i libri, l'atmosfera complice, la completa libertà di ogni cosa, e io ero tua, tua. Ti chinavi su di me e mi baciavi ogni volta che ne avevi voglia. E qualche volta ci amavamo così tanto da esaurire tutte le energie, contente solo di scoprire nei nostri occhi il segreto che segreto più non era. Mizzia, la scena cambia. Ora siamo a Long Barn, fuori una soffocante notte d'estate, piena di profumi e di suoni. Improvvisamente vedo qualcuno giovane, selvaggio e bello, vestito con una pelle di leopardo che dardeggia al chiaro di luna pomellato. Oh, mio prince of romance. Chi era quel giovane, selvaggio e bello? Quel giovane, selvaggio e bello è sempre Vita Sacco e West perché nel loro gioco d'amore Vita è il conquistador, è un po' l'eroe baironiano, quello che se vogliamo, se mi si può passare un termine folcloristico, era una sciupa femmine Vita, quindi questo fascino del conquistatore che le donne cadono ai suoi piedi e quindi può fare qualsiasi cosa e quindi di volta in volta è Julian e Dimitri e Calisto, ma soprattutto è il grande conquistatore, Vita è il grande conquistatore. Settembre 1919 Sto scrivendo L ha un brutto maglione di lana che ha indossato per farmi dispetto e lo fa sembrare molto disordinato è abbastanza per provocare un litigio stanno parlando di politica L è spaventoso con quei suoi capelli rizzati alle punte ho tanta voglia di dargli uno schiaffo tesoro le tue supposizioni su di me sono sbagliate ma sono d'accordo e ti pungolo plus je vis moins je rassemble au reste de l'humanité Chi era mio padre? Un fauno senza dubbio Un fauno che ha fatto una mesaiance con una strega Sul serio? Qualche volta penso che c'è qualcosa di misteriosamente strano in me Ho paura Questa lettera è uno spasso ce la racconti? Sì è uno spasso in quanto Violet chiede con insistenza a Vita di mantenere la sua promessa la promessa che si sono fatte è quella di rimanere fedele l'una all'altra Non hai mai risposto al mio telegramma in cui ti chiedevo se stavi facendo la brava Sai molto bene cosa intendo per brava Se mi accorgo che ti stai comportando diversamente mi comporterò di conseguenza non manterrò la promessa fatta Scrivimi tesoro mio e assicurami che il tuo comportamento è rimasto immutato nei confronti di Harold e almeno che ci rivedremo presto Sono terribilmente infelice Mizia Ti amo più di quanto ti abbia mai amata in tutta la mia vita Perché non ti firmi più la tua Mizia Hai rimesso la fede Oh Mizia ti prego a non farlo Oggi spero tanto di ricevere un tuo telegramma rassicurante Tutto è cenere senza di te L'altra notte ho pensato per un momento che Dennis avesse intenzione di strangolarmi Gli ho detto che sarei andata a dormire presto perché avevo mal di testa Invece mi sono messa a letto a scriverti Dopo aver notato la luce nella mia stanza ha fatto capolino e ha esclamato Mi stai di nuovo ingannando Avevi detto che saresti andata a dormire L'ho rimproverato ricordandogli che non erano affari suoi se andassi o no a dormire Livido in volto ha urlato Ti odio Ti odio Mi vendicherò di tutti i tuoi inganni Ti renderò infelice come tu hai fatto con me Ti rovinerò la vita come tu hai rovinato la mia Sarà meglio se le lettere sui nostri progetti le scrivi in italiano lingua che non conosce nel caso riuscisse a strapparmene qualcuna da mano Così scrive Violetta Vita il 20 febbraio del 1920 In seguito si trasferì a Parigi con Dennis La loro fu un'affettuosa seppur distaccata convivenza che durò fino alla morte di lui avvenuta per tubercolosi nel 1929 Proprio in quell'anno fu pubblicato il primo dei romanzi di Violetta Ne seguirono undici alcuni scritti solo in francese Vita ed Harold nel 1930 acquistarono le rovine di un castello nel Kent creando i famosi giardini A Parigi Violetta divenne una personalità di spicco nell'entourage artistico internazionale Durante la seconda guerra mondiale tornata a Londra per scappare da una Francia occupata dai nazisti le ceneri del grande amore continuavano ad ardere e si sarebbero potute riaccendere con passione nel dicembre del 1940 come testimoniano le lettere scritte da Vita Violet in quel tempo C'è qualcosa di indistruttibile tra noi qualcosa che ci appartiene e che non dividiamo con nessun altro Hai detto che il nostro amore è durato tre mesi invece durerà per sempre Cyril Connolly dedicò a Violet un libro che lei adorava Dan Quiet Grave Violet sottolineò questo passo con una matita rossa Amiamo una volta sola Solo per quella volta abbiamo tutto ciò che ci serve per amare Potremmo avere l'impressione di essere innamorati altre volte Uno dei primi giorni di settembre ci sembrerà caldo come uno di giugno sebbene esso sia più corto di sei ore Il modo in cui quel primo grande amore si delinea dipende dagli schemi delle nostre vite di sei ore che si delinea che si delinea